Si chiama Chanel Howell, è una giovane donna straniera, la quale ci informa del fatto che secondo lei viene utilizzato un metodo che, diciamo così, permette ai lavoratori di ottenere una legge di eccellenza, ma che però l'ha messa letteralmente a disagio. Infatti, secondo la donna, i dipendenti della azienda in cui la lavora sarebbero stati umiliati nella sessione di diagnosi. Si tratta di una munizione in riunione davanti a tutti i colleghi, che ovviamente la donna condanna fermamente in un video pubblicato qua sul web. Sono riunioni in cui la persona che ha commesso un errore deve essere evolutata e viene sottoposta a una sorta di terapia spinta a piangere davanti ai suoi colleghi. È un'umiliazione, Chanel non ci sta, infatti pubblica questo video dove si sfoga e dice che non si può fare così. Una persona non può subire delle umiliazioni devastanti e terribili come questa, che ovviamente ha delle incredibili. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, complimenti alla passioner Awel, questa giovedona straniera di colore. Ciao a tutti.